San Carla, stavo smanettando sul telefono perché mi incuriosiva, visto che tanti stavano giocando col telefono, provate ad andare a digitare articolo 2 trattato di Lisbona. Ogni tanto fa bene riferirsi a quelle che sono la carta costitutiva sostanzialmente dell'Unione Europea, perché si danno per scontate certe cose oppure non si è al corrente di alcune cose che sono state fissate nella decisione di vivere assieme dei popoli europei. Io lo leggo perché è interessante vedere. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non-discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solitarietà e dalla parità tra uomini e donne. Poi prosegue. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori di cui abbiamo detto prima, e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne, in cui si è assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerni i controlli delle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultimo. ultimo, mi riferisco adesso, leggo un altro comma e dice, l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva eccetera eccetera. Per chi non fosse stata conoscenza di tante cose direi che essendo tutti persone che si muovono, penso, nell'area eco-pacifista questa sera, mi sembra che alcune parole, alcuni termini ci siano dentro, ma alcuni valori che sono valori fondanti di quello che è stata e quello che dovrebbe essere l'Unione europea. Ecco perché quando ci si riferisce all'Europa si dice, sì, tanto è stato fatto, nessuno lo mette in discussione, ma in base proprio a quello che è scritto, tanto rimane da fare, perché se ci confrontiamo con le citazioni che ho fatto prima, ci si rende conto che ci sono tante cose che mancano ancora nell'Unione europea. A me sembra fondamentale, sono tornato ieri da Bruxelles, nel Parlamento europeo, e quando rientro, che cerco di seguire lo svolgimento della campagna elettorale, mi piange un po' il cuore perché dico, ma perché non si possono parlare veramente delle questioni, questioni di rimenti, le questioni fontanti che toccano l'Unione europea, perché dobbiamo essere impantanate ancora nella politica nazionale, governo sì, governo no, eccetera. E penso che il compito sia quello davvero nostro, dei media e della stampa, di cercare di incanalare il dibattito e toccare le questioni che sono veramente adesso, le questioni in ballo che riguardano il futuro dell'Europa e quello che si dovrà fare dopo, una volta che le borne saranno chiuse, una volta che ci sono i risultati. Ed è questo che è mancato fino ad oggi, almeno da come l'ho vista io la campagna, voi magari avete un'opinione diversa perché vedete più la televisione italiana di quanto non guardi il sottoscritto. Però è importante davvero richiamare le persone, richiamare i candidati di qualsiasi formazione politica e cercare di inchiodarli a quello che saranno le decisioni che si dovranno prendere dal 1927 in poi alla luce della nuova composizione del Parlamento europeo. Allora, non voglio rubare la parola a Selvi perché lui è l'esperto in materia, però il salto di qualità che avrebbe potuto caratterizzare questa campagna elettorale che ha marcato è stato nel fatto che sostanzialmente si va a votare per il Parlamento europeo con 28 sistemi elettorali diversi e questo è un paradosso, con 28 campagne elettorali rinchiuse in 28 opinioni pubbliche diverse. Opinioni pubbliche diverse che faticano, nonostante 70 anni di integrazione ancora, a comunicare fra di loro per ragione di lingua, cultura, storia e tradizione. Questo è il vero tallone dell'Achile nell'Europa. Allora, si era cercato, visto che fra tutti gli organi che compongono l'Unione europea questo è l'unico, è l'elezione diretta, quindi è l'unico per il quale si fa campagna e si scelgono i rappresentanti, tutti gli altri sono organi di secondo grado oppure altri organi che vengono eletti in modo diverso. Era importante che ci fosse una campagna che fosse la stessa, proprio perché si elegge un organo unico in tutti i paesi dell'Unione europea. Faccio una breve cronistoria di quello che è avvenuto prima, nel senso che il salto di qualità di questa campagna elettorale, di questo appuntamento avrebbe dovuto essere la presenza di un piccolo numero, però simbolicamente importante, di deputati da eleggere a livello transnazionale, ovvero si avrebbe dovuto esserci le liste nazionali, in collegi nazionali, più una cinquantina di deputati, così erano state la proposta, un listino da eleggere a livello transnazionale. Questo avrebbe fatto fare il salto di qualità alla campagna elettorale, sicuramente, perché avremmo espresso un doppio voto, un voto per i rappresentanti che noi stessi delicevamo dalla circoscrizione italiana, nel senso lato della parola, e un certo numero di deputati scelti dalle famiglie politiche con liste transnazionali, avremmo avuto la possibilità di avere dei rappresentanti che rappresentassero veramente l'insieme delle opinioni pubbliche europee, cercando di creare la base per un'opinione pubblica europea che non esiste. Non esiste e la vediamo, la vediamo perché, nel discorso che faccio spesso, noi ancora oggi, ascoltavo il NGR intanto che venivo qui e il primo titolo era ancora sulla nave, lo sbarco, porti chiusi, eccetera. Questione delicatissima, importantissima, ma questa è una questione che vince i titoli di testa sulla stampa italiana, ma se voi andate sulla stampa tedesca, sulla stampa finlandese, di questo non si parla. Se voi andate sulla stampa polacca o sulla stampa tedesca, si parla spesso e volentieri della questione ucraina, del conflitto nel Donbass, se voi guardate la stampa italiana non c'è niente di questo, come se la cosa non interessasse anche a noi. Ecco, quindi si parte da presupposti completamente diversi, ci sono campagne elettorali che sono, che non comunicano fra di loro. E io penso invece che il nostro sforzo debba essere quello appunto di cercare di avere una visione d'insieme, perché l'Unione Europea si è sforzata in tutti questi anni di arrivare ad una sintesi di quelle che sono i bisogni e le sensibilità di ciascuno dei paesi che compongono l'Unione Europea. C'è riuscita? I risultati sono controversi, lo sforzo c'è stato, però c'è bisogno di una spinta, una spinta molto forte, ecco perché queste elezioni secondo me sono decisive. Come Fondazione Langer abbiamo deciso di dare vita, di cercare di pubblicare, siamo arrivati a pubblicare questa rivista Pro Europa, che penso con il fascicolo di Giancarlo sia un argomento di stasera, pertanto vi invito tutti a chi non l'avesse fatto ancora di prenderlo in mano e di leggerlo, però abbiamo cercato di mettere a fuoco quelli che sono i campi fondamentali su cui dovrà pronunciarsi poi il Parlamento Europeo, cercando di condizionare il consiglio, perché il problema è che in Parlamento Europeo poi si sa tutto di tutti, nel senso che comunque ci sono i voti per appogli nominare, ci sono le sedute che peraltro vengono trasmesse regolarmente, trovate in rete tutte le sedute del Parlamento Europeo quando si riunisce, di tutte le commissioni parlamentari c'è la trasmissione in rete perché sapete quello che succede, ovviamente a salvo quando ci sono punti confidenziari dove c'è bisogno di un'attenzione particolare, ma sono episodi, sono situazioni limitatissime, per il resto è tutto pubblico, gli atti del Parlamento li potete trovare sistematicamente dappertutto, basta oggi muoversi in rete, quindi con uno sforzo di trasparenza notevole, eppure nonostante questo ci rendiamo conto di quello che è il gap che separa i cittadini dall'istituzione europea, perché? Perché proprio per la paura di fondo, che è quella di mettere in comune troppa sovranità, abbiamo deciso, i paesi membri hanno deciso di trattenere una parte, tra l'altro la parte più sensibile di sovranità, in particolare mi inquisca la politica estera, per cui abbiamo sulla carta una politica estera di sicurezza comune che in realtà di comune qualcosa c'è, però le scelte forti ancora non esistono, nel senso che voi sapete che la politica estera di sicurezza comune è di prerogativa e di competenza esclusiva dei governi nazionali, nel senso che è squisitamente intergovernativa. Il Parlamento europeo viene informato di quello che succede, di solito il giorno dopo che la decisione è stata presa, neanche prima, e per cui siamo esclusi dalla cosa, e questo perché? Per volontà dei paesi membri che non hanno voluto assolutamente cedere la politica estera all'unione europea e soprattutto vige il regime di unanimità, nel senso che il ruoto di Malta è come quello della Germania, se Malta dice non se ne parla di questa cosa, in Libia si blocca tutto perché io decido così perché la mia sensibilità sulla Libia è diversa dalla tua, non se ne fa niente, rimane così. Per cui quando si chiede qualcosa all'unione europea cerchiamo di capire cosa possiamo ottenere dall'unione europea. Allora, l'unione europea, vorrei dare due flash prima di concludere, l'unione europea è un progetto di pace, un progetto di cooperazione di pace, è un progetto di cooperazione civile, i fondi europei dovrebbero essere utilizzati in base ai trattati per progetti civili. Ora, cosa sta avvenendo però? Questa è una delle note dolenti su cui io vorrei tirare la nostra attenzione. Io parlo da persona che sarebbe favorevole ad un esercito europeo, però teniamoci a mente in modo chiaro di quelle che sono le risorse economiche oggi dell'Unione europea. Tanto per fare un paragone, l'Unione europea oggi ha un bilancio attorno ai 160 e 170 miliardi di Euro all'anno, tutta l'Unione europea, tutte le politiche dell'Unione europea per tenere in piedi tutti gli organi che governano l'Unione europea. Tanto per farvi un paragone, una comparazione terra a terra. Sapete quanto spende il Pentagono, quindi il Pentagono è il Ministero della Difesa, qual è il bilancio del Pentagono? Attorno ai 600 miliardi di Euro, solo per la difesa degli Stati Uniti. Allora, l'Unione europea deve gestire con 160 miliardi tutta la sua politica, dalla politica agricola comune, alla politica ambientale, ai fondi di coesione, eccetera. Per cui se vogliamo qualcosa dall'Europa, dobbiamo anche chiedere o cercare che l'Europa possa ottenere quelle risorse per poter rispondere alle richieste che ne facciamo l'Europa. E questo è il primo problema. Secondo problema, ed è una situazione un po' paradossale, lo dico da non violento perché si muove all'interno dell'istituzione europea. Quando l'Unione europea, il Consiglio decide di utilizzare le scamotage, di utilizzare fondi europei per destinarli alla politica industriale e quando questa politica industriale è per il sostegno della nostra industria e della difesa, si capisce che c'è qualcosa che non va e che deve essere denunciato in modo molto forte, perché noi dovremmo essere rigorosi in questo. L'Unione europea è un progetto civile, come tale deve rimanere, quindi non si può mascherare alcune decisioni come se fossero civili, come se fossero semplicemente lo sviluppo di un determinato settore industriale sapendo benissimo che questi soldi sono utilizzati in realtà a sostegno per la ricerca e per l'innovazione della nostra industria delle armi. Queste sono questioni che secondo me sono questioni fondanti discriminati che dovrebbero essere sollevate durante una discussione, perché non l'ho mai sentito durante questa campagna elettorale. Quando vedo che c'è un fondo europeo di difesa e che sostanzialmente sostiene la nostra industria delle armi di difesa, forse c'è qualcuno se forse si prova a deviare da quello che è il corso che era stato dato dai padri fondatori all'Europa. E' importante che ci sia peraltro convergenza, è importante che ci siano progetti di cooperazione anche nel settore della difesa, ma questo lo si fa al di fuori del bilancio europeo. Gli Stati nazionali possono farlo tranquillamente, perché io devo devolvere parte di un bilancio che è già ristretto per questo? Sicuramente è uno dei punti critici, forse più critici di quello che sta avvenendo, ecco perché il Parlamento europeo che adesso prenderà ufficio, si sostituirà a quello uscente, si troverà a discutere di una questione che secondo me è estremamente importante, che per capire quanto dei fondi europei continueranno ad andare all'industria della difesa. Ancora, e da ultimo concludo, quando descrivo le caratteristiche della politica estera di sicurezza comune, mi piace paragonarla a quelle che sono le politiche estere degli altri attori globali che ci sono. Sostanzialmente, sapete, si discute di quattro potenze mondiali, che sono gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e l'Unione europea. Ora, se voi fate un'analisi delle politiche estere di questi paesi, vi renderete conto che per questi paesi tre hanno una politica estera fondata sulla carota e sul bastone, come si dice, carrot and stick dicono gli inglesi, cioè su soft power, e mi collego a quello che tu dicevi Ragnale prima, soft power e hard power. Poi c'è chi gioca molto sul hard power, la Russia ad esempio gioca moltissimo, anzi forse sul hard power. Gli Stati Uniti, sì, molto hard power, ma anche tanto soft power. La Cina è ancora un punto interrogativo, cerca adesso con la famosa nuova via della seta di rifarsi il volto, dimenticando tutte le magaglie interne di quello che sta succedendo in Cina. E l'Unione europea, rimane alla fine un'Unione europea, attore mondiale, che però si muove solo con il soft power. L'Unione europea non ha un esercito, non ha armi da spendere nel mondo, se no i singoli paesi possono farlo, ma non come l'Unione europea. L'Unione europea manda in giro queste missioni di politica estera comune, molto apprezzate tra l'altro, perché i paesi li richiedono, e sono missioni di state building, cioè di costruzione dello Stato. Vengono mandati là gli esperti dell'Unione europea ad assistere a un paese che deve consolidare le proprie azioni su istituzione democratica, oppure deve metterle in piedi dopo un conflitto, deve ricostruire lo Stato. L'Unione europea presta un'assistenza preziosa, secondo me complessivamente la valutazione è buona. Le caratteristiche dominanti della politica estera dell'Unione europea sono tre, e non hanno nulla a che vedere con hard power, però sono le caratteristiche che marchiano l'azione dell'Unione europea in senso positivo, e sono. L'Unione europea è forte sulla inclusione, integrazione e condivisione, sono le tre caratteristiche fondamentali. È possibile ancora fare politica estera basandosi su questo? Io spero che sì. Fino ad oggi l'Unione europea qualcosa è riuscito a fare in questo, perché la politica per esempio più vincente che ha avuto l'Unione europea dal 2000 ad oggi, forse anche da prima, è stata quella dell'allargamento, cioè includere, condividere. L'Unione europea dice cerchiamo di vedere cosa si può fare sia, quindi cosa possiamo mettere a disposizione? Mettiamo a disposizione le nostre risorse, un affetto della nostra ricchezza e cerchiamo di definire assieme un progetto comune, quindi condividere, integrare. Guardate la forza di integrazione che ha avuto l'Unione europea, non solo ad includere i paesi per far diventare paesi membri, ma integrarli. Pensate ad esempio all'Erasmus messo a disposizione dell'Unione europea, come funzionano l'Erasmus, 9 milioni di cittadini europei che hanno utilizzato l'Erasmus, sembra che siano 9, adesso magari più o meno, però dando la possibilità ad altri paesi che non fanno parte dell'Unione europea di integrarsi nell'Erasmus, perché l'Erasmus è aperto a tutti, anche i cittadini di altri paesi, non solo i cittadini europei. Pensate alle politiche d'allargamento, le politiche d'allargamento che servono per preparare i paesi ad entrare nell'Unione europea, tra l'altro argomento completamente sconosciuto durante la campagna elettorale, nessuno parla di allargamento. Alle porte di casa abbiamo i Balcani che bussano la porta da tantissimo tempo, pare che non gliene freghi niente a nessuno, non si sa nemmeno quale sia la posizione dell'Italia a favore dell'allargamento, cerchiamo di capire meglio. Eppure l'Unione europea, l'allargamento del 2004, che se ne dica, l'allargamento che ha sancito la fine della divisione dell'Europa, è stata un'esperienza, un esperimento vincente con un colpo di coda, il colpo di coda l'abbiamo visto con Polonia e Ungheria, e allora lì ci siamo resi conto di quanto deboli sia l'Unione europea, nel senso che partono le procedure di infrazione ma non possono andare avanti, perché i meccanismi decisionali su cui è basata l'Unione europea in realtà sono talmente complicati, talmente complessi, talmente miranti a tutelare tutti che alla fine non tutelano nessuno. Per cui far partire la procedura di infrazione e quindi far scattare l'articolo 7, che è quello che metterebbe in muore l'Ungheria e la Polonia, è impossibile, perché è fondato solo un'animità, e mai più Ungheria o Polonia in sede di consiglio voteranno a favore per mettersi in muore, se no la procedura è incredibile. Ecco, ci sono alcune cose, forse tante, che devono essere modificate per fare in modo che l'Ungheria funzioni meglio. Però partiamo da questa, cerchiamo di mettere a fuoco meglio come stanno le cose, cerchiamo di vedere quelle che sono le crepe in cui inserirci, cerchiamo di vedere quello che deve essere migliorato, come ho detto prima, ci sono parecchie cose che devono essere cambiate, ma utilizziamo quello che abbiamo oggi come punto di partenza, perché se facciamo finta che tutto quello che abbiamo oggi è qualcosa di acquisito, dato per garantito ci sbagliamo, perché non è vero, perché come si dice molto più facile distruggere che non costruire.